Radio Bari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon giovedì 15 ottobre a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Radio Bari.cult. Io vado subito a presentarvi il primo ospite di questa mattina, do il benvenuto a Michele Casella. Buongiorno Michele. Ciao, grazie. È sempre bello vederti ed è sempre bello parlare dell'Ink Festival. Mostriamo la Locandino, un'iniziativa di Pool, di Pool Magazine, di cui tu sei il direttore. Un festival dedicato più che altro al giornalismo e all'editoria. Sì, è un po' la comunicazione. Naturalmente noi quest'anno l'abbiamo realizzato insieme a una serie di partner, tra cui il Core con Puglia, la Regione Puglia, due università. Fondamentalmente il festival quest'anno ha due novità importanti. La prima è che si svolgerà sia a Bari sia a Lecce. Questo è il primo anno in cui doppiamo e l'intenzione è poi di coprire un po' tutta la regione nel corso dei prossimi anni. La seconda è che abbiamo due temi centrali, cioè il rapporto tra l'innovazione e l'informazione. Quindi vedremo come la digitalizzazione entra nel nostro mestiere. E poi il rapporto tra informazione e violenza. Quest'anno ci sono stati molti servizi giornalistici che hanno parlato, tra l'altro, di disgrazie, di cose molto particolari, molto delicate. E quindi vediamo un po' come l'informazione si approccia a questo tipo di notizia e quanto è importante la diffusione poi dell'informazione. I social network ormai sono una cassa di risonanza fortissima per qualunque testata giornalistica. Vediamo che influenza avrà. Allora, il festival si terrà quest'anno anche a Lecce. È una novità questa? Esatto, due sedi, Bari e Lecce. Sì, noi stiamo cercando di creare con Link un polo della comunicazione e soprattutto di approfondimento sulla comunicazione e giornalismo che vada a colmare quel vuoto che c'è da Roma in giù. E quindi stiamo cercando di avere un progetto che si possa ampliare nel corso degli anni e che vada a comprendere poi diverse postazioni regionali e quindi l'anno prossimo annunceremo proprio durante la prossima settimana che dovremo avere anche una location a Foggia. Ah, che bello allora, che bello. Cerchiamo di allargarci. Eh sì, ed è buono, insomma, ed è bello che sia così. Invece a Bari si terrà, diciamo, dal 19, 20 e 23 ottobre. Che cosa succederà durante queste tre giornate? Allora, 19 e 20 sono centrate sugli argomenti che ho raccontato. Il 23 che è l'ultima giornata, invece facciamo un approfondimento su quello che è il giornalismo, la critica legata al teatro e la danza e organizziamo questa giornata insieme al Teatro Pubblico Pugliese e avremo alcuni dei più importanti critici italiani che ci parleranno di come si fa critica teatrale oggi anche attraverso i nuovi media. E poi abbiamo i due giorni centrali, il 21 e il 22, che sposteremo a Lecce, alle officine Cantelmo. Queste cinque giornate comunque la cosa interessante chiaramente sono gli ospiti. Stiamo facendo anche qui dei passi in avanti. Quest'anno avremo il consigliere d'amministrazione della RAI Paolo Messa, avremo Barbara Carfagna del Tg1, avremo la Simoni che è un'inviata di guerra che ha fatto tantissime avventure. Ci sono due fotoreporter di caratura mondiale, entrambi lavorano per le più importanti agenzie planetarie. Avremo poi una cosa a cui tengo molto, è il professor De Kerkhoff che ha preso la cattedra di Toronto che era di Marshall McLuhan. Per chi si occupa un po' di comunicazione, Marshall McLuhan è una specie di messia dello scorso secolo e lui è direttamente il suo discepolo in un certo senso. Quindi abbiamo un parterre molto molto interessante. Siccome sono circa 50 ospiti, per vederli tutti c'è il sito www.linkfestival.net e lì trovate sia le giornate sia poi gli argomenti perché abbiamo diviso le giornate in sessioni quindi al mattino abbiamo una sessione, al pomeriggio un'altra e cercheremo di parlare anche di come si fa il giornalismo oggi. Parleremo per esempio dell'utilizzo dei droni che è una branca molto interessante perché... Eh sì, tutta nuova poi tra l'altro. Per esempio negli Stati Uniti adesso si stanno formando delle vere e proprie microredazioni con delle persone che sono addestrate a favorare i droni perché diventano degli strumenti anche per utilizzare, per approcciarsi al data journalism e quindi nuove forme di giornalismo, nuovi modelli che a noi piacerebbe molto venissero anche integrati nel sistema regionale pugliese, perché no? Perché no, infatti. Allora vi ricordiamo un appuntamento con il Link Festival, il Festival della Comunicazione e del Giornalismo 19, 20 e 23 ottobre a Bari, invece 21 e 22 a Lecce. Ovviamente vi abbiamo dato tutte le indicazioni per... Una sola altra indicazione volevo dare. Sì, se non muoio prima. Per i colleghi giornalisti e per gli studenti, siccome questa manifestazione è realizzata insieme all'Ordine dei giornalisti pugliese nazionale, tutti i giornalisti che verranno potranno acquisire dei crediti formativi. Perfetto. E la manifestazione ovviamente è totalmente gratuita e anche gli studenti potranno acquisire crediti formativi per l'università. Perfetto. Grazie mille Michele Casella. Grazie per essere stato qui con noi. In bocca al lupo per questa nuova edizione di Link. E voi restate con noi a tra poco con un punto dopo.